Prendiamo in più un po', fai un po', ok, di lavorare la patente, adesso facciamo vedere, uno strangolamento al collo, da qua arriva, giustamente ce n'è degli altri, o colpire, o da dentro, adesso ne vediamo una, arriva, da qua, afferriamo la mano per cercare di respirare, nel frattempo, vediamo una gomitata, da qua si arriva con le dita, bloccaggio delle dita, giro, non giro solo le dita, ma giro il corpo, quando il corpo si trova all'altezza del fegato, buttiamo dentro la mano, lo controlliamo, blocchiamo la mano, se reagisce, A cambio, guida d'aria, fa uno, fermo le dita, due, tre, uno, quattro, 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 se lui fa forza, basta tirare, perde, spaccare il braccio, Cambio, provate due minuti,